nuova avventura giallorossa telerama in ritiro con il lecce in austria in collaborazione con start point il punto di partenza per la tua nuova toyota vieni a trovarci nei nostri showroom di lecce brindisi taranto e casarano vesti il tuo stile da pozzo lungo uomo e accessori taglie comode forti e regolari pozzo lungo uomo e accessori e alle verano il via cesarea ben trovati appuntamento con lo speciale ritiro del lecce oggi primo giorno di lavoro per la squadra giallorossa nel ritiro austriaco di neostritt allora nel servizio vediamo com'è andata abbracciato da due catene montuose nella valle dello stubai a noi sfizi in austria sorge il quartier generale del lecce che per la prima volta nella sua storia effettua la preparazione precampionato il ritiro all'estero location scelta da mister gotti in accordo con lo staff tecnico e la società giallorossa temperatura intorno ai 20 gradi di giorno e punte che scendono intorno a 6 7 gradi di sera fanno di neusfit una location ideale per i primi test atletici fisici e tattici in vista di quello che sarà il terzo campionato consecutivo del lecce in serie a condizioni ottimali tanto che anche molte squadre blasonate in passato hanno svolto lo stesso lavoro presso il neusfit stadion ajax spartac mosca eintracht di francoforte nazionale spagnola e francese per citarne alcune ma anche club italiani come bologna e genua la squadra è giunta in austria poco prima di mezzogiorno a isbruck con volo charter e dopo pranzo i giocatori si sono ritrovati sul campo verde per iniziare il ritiro che proseguirà fino al 28 luglio periodo in cui peraltro mister gotti testerà moduli e giocatori in tre amichevoli due delle quali contro avversari di caratura internazionale la prima mercoledì contro una formazione di seconda categoria veneta sabato 20 luglio contro il verder brema il 24 luglio contro il galatasaray sono 26 complessivamente i giocatori della prima squadra e 12 giovani della primavera aggregati convocati da mister gotti assenti giustificati berisce ramadani per il protarsi dell'impegno con le rispettive nazionali e che raggiungeranno la sede del ritiro nella giornata di sabato 20 luglio assente anche lo spagnolo gonzalez che dopo una patologia cardiologica rilevata nel corso delle visite mediche e confermata dal centro di medicina sportiva dell'università di padova effettuerà ulteriori accertamenti a barcellona su autorizzazione della società la squadra quindi si è ritrovata nel pomeriggio presso il centro sportivo lavoro di riscaldamento in palestra realizzata appositamente proprio a ridosso dei due campi sportivi a disposizione di mister gotti prima della seduta qualche minuto dedicato ad una sorta di briefing con il tecnico che ha chiamato a raccolta la squadra a cui ha parlato sotto lo sguardo attento dello staff tecnico al gran completo lavoro tecnico prima e lavoro individuale successivamente prima di passare al pallone prima tutti i giocatori in gruppo subito dopo diversi raccrupamenti divisi sui due campi da gioco il primo giorno di ritiro del lecce è volato così finisce qui il nostro speciale ritiro del lecce grazie a tutti per l'attenzione arrivederci nuova avventura giallorossa telerama in ritiro con il lecce in austria in collaborazione con start point il punto di partenza per la tua nuova toyota vieni a trovarci nei nostri showroom di lecce brindisi taranto e casarano vetti il tuo stile da pozzo lungo uomo e accessori taglie comode forti e regolari pozzo lungo uomo e accessori è a leverano in via cesarea e 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